Buongiorno a tutti amici di Visione TV, Londra, Parigi, Roma e Berlino. Si è concluso il tour del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky e partiamo da qua in questa puntata in cui è ospite l'amico Roberto Quaglia. Ciao Roberto. Ciao Enrica, stiamo parlando di cartoni animati, mi sembra di aver capito. Ma guarda, ma infatti ho in serbo per te una chicca, però la dobbiamo in qualche modo introdurre, perché si è parlato del cosiddetto piano della vittoria che Zelensky ha in mente, ha in testa per mettere fine alla guerra nel 2025, questa è la data che adesso si è prefissato il nostro e che è stata il centro di una discussione a Downing Street tra il Presidente ucraino, il Premier britannico Starmer e il nuovo segretario generale della Nato, Mark Rutte. E a un certo punto, insomma, si è unito ovviamente Rutte a questo colloquio, parleremo anche di questo, però la star di questo incontro non è stato Rutte, non è stato Starmer, non è stato neanche Zelensky, perché a rubare la scena al Presidente ucraino è stato Larry. Larry il gatto che evidentemente non ha apprezzato molto questo incontro, vediamo. Allora, Larry il gatto è l'inquilino più famoso, più noto di Downing Street, tant'è che ci sono tutti i suoi fan, i suoi sostenitori che volevano anche candidarlo, non ci sono riusciti, però evidentemente abbiamo visto che Larry non ha apprezzato molto la presenza del Presidente ucraino. A parte gli scherzi, Roberto, partiamo da qua. A che cosa è servito? Come parte gli scherzi? Qui stiamo parlando di ingatto veritas, avrà avuto i suoi motivi per uscire di lì. Hai ragione, era proprio del tipo Maria io esco, come l'altro si è infilato, ha detto io me ne vado, non voglio essere connivente con quello di cui discuterete. Vabbè, e quindi alla fine, quando lo vedremo Larry premier? C'è la speranza? Beh, di sicuro farebbe molto meno danni degli ultimi premier inglesi, ecco, questo ci può essere poco dubbio. Ma anche perché Starmer tra l'altro è crollato, insomma era partito, sembrava bene a livello di popolarità, è proprio crollato, si è schiantato, poi insomma con le misure draconiane adottate per gestire le proteste, la censura sui social, gli arresti, mancavano soltanto i rastrellamenti, alla fine forse è rimasto soltanto Tony Blair ad apprezzarlo e poi basta. Ma ormai c'è una frattura, dire che c'è una frattura tra i ceti dirigenti e le popolazioni è un understatement, è un eufemismo. Ormai c'è un abisso, non c'è più nessuna relazione e questo è il segno di una società in decomposizione, a prescindere poi dai temi, dai contenuti, è proprio una società dove il nesso non esiste più, esiste una parvenza ancora di consenso che è data dagli ipnotizzati, quelli che seguono le televisioni e che reagiscono un po' come i cani pavloviani allo stimolo, rispondono magari con la crocetta elettorale, però per il resto c'è un abisso e lo si vede proprio nel crollo di popolarità costante nuovi minimi che vengono raggiunti dai cosiddetti leader occidentali ogni anno che passa. Ecco noi non sappiamo se anche i gatti romani che sono ben noti hanno reagito come Larry all'arrivo del Presidente ucraino, sappiamo però che dopo Parigi, dopo Londra, Zelensky è arrivato in Italia, c'è stata questa visita, questo incontro prima con il Premier Meloni, poi in Vaticano con il Papa, ma che cosa è servito questo tour di Zelensky, questo tour europeo? È servito a dare l'impressione a chi ancora vagamente creda a questo teatro che esista una volontà di pace occidentale, che esista una parte giusta che si identifica con l'Occidente, ma è un tetrino a cui non crede nessuno. Quando noi parliamo di un Zelensky che fa queste tournee e parla con il Premier Inglese, noi stiamo parlando di la stessa entità che parla con se stessa, cioè una persona che si parla allo specchio e per inciso entrambi sono solo pupazzi, prendono ordine a chi gli scrive copioni. Quindi quando ci sono questi teatri, noi pensiamo veramente, cioè qualcuno pensa veramente che questi si dicano qualcosa, questi in realtà recitano dei copioni, probabilmente quando sono poi a tu per tu non si dicono niente, si berranno una birra, non so, non penso che abbiano qualcosa veramente da dirsi. Serve solo per dare fondamento poi ai comunicati stampa che vengono emanati. Io penso che quello che dicono sia strettamente legato appunto ai copioni che hanno ricevuto e quindi di fatto non abbia nessun valore. Zelensky è un pupazzo, riceve copioni, a parte che è un attore proprio anche per il confesso. Quindi riceve copioni, ma dall'altra parte non è che sia meglio. Quindi di fatto serve semplicemente per creare una narrazione, che poi non è creare una narrazione, perché la narrazione centrale ormai è crollata mille volte, tutta la narrazione sulla guerra in Ucraina è crollata mille volte, tutte le volte si raffazzona un surrogato di narrazione che viene in qualche maniera di nuovo vomitato sugli spettatori tramite la televisione e i media compiacenti per cercare di salvare appunto lo salvabile, che è una vaga coerenza che in realtà non esiste più. Quindi ogni narrazione è sempre meglio di vedere le altre, sono tutte completamente in mutua contraddizione e non tengono fatto del mondo reale. Poi qui arriveremo a questo, non tengono conto del mondo reale, sono scollegate alla realtà. A proposito di copione, sul copione almeno quello romano, risulta che la conferenza di pace per l'Ucraina si terrà proprio nella capitale il 10 l'11 luglio del prossimo anno, prima di arrivare appunto al prossimo anno e quali sono però le condizioni per porre fine a questo conflitto? Ci sono, sono credibili o si continua semplicemente, così come dicevi tu a scrivere, a far leggere a degli attori qualcosa su dei copioni e poi si continua a procrastinare alla fine del conflitto? Allora, cerchiamo di fare un esame di realtà. In una sola frase possiamo dire che l'Occidente collettivo ha perso la guerra. L'Ucraina è il terreno di battaglia, quindi Zelensky è solo un attore che purtroppo, diciamo sia per la sua anima che per il suo popolo, ha messo a disposizione la carne di cannone Ucraina per la guerra dell'Occidente. All'Occidente quella guerra l'ha persa, questo tra l'altro non lo dico ormai solo io, ma lo dicono fior di analisti di tutti i livelli. A questo punto il fatto di voler stipolare un piano di pace da in qualche modo imporre ai vincitori, sarebbe la prima volta nella storia dell'umanità che i perdenti impongono un piano di pace ai vincitori. Le condizioni le dettono sempre sono i vincitori e l'Occidente ha una sorta di pregiudizio narcisistico frutto di centinaia di anni di dominazione del mondo, parlo degli anglosassoni adesso, per cui comunque anche quando perdono non riescono a credere di aver perso, pensano comunque di poter vincere rientrando dalla finestra dopo essere stati buttati fuori dalla porta e quindi provano i vecchi trucchi, provano il trucco per esempio di ricongelare il conflitto come hanno fatto con gli accordi di Minsk appunto del 2014, quindi cercano di congelare il conflitto ma non per fare la pace, semplicemente per armarsi meglio, per cercare nuove strategie, per poi riattaccare e riprendere il conflitto, come hanno già fatto in passato. Solo che stavolta i russi credo che abbiano imparato la lezione, il tradimento degli accordi di Minsk era intenzionale fin dall'inizio studiato appunto dall'Occidente per armare l'Ucraina che aveva perso il primo conflitto appunto contro le milizie del Donbass e quindi non penso che i russi accettino qualsiasi tipo di congelamento del conflitto che alla fine non fa altro che pospondere il problema, i russi vogliono chiudere il problema definitivamente come è anche normale che sia, perché è un problema che si trascina da anni per non dire decenni, in effetti sono decenni, sono decenni in cui la Nato si è andata a avvicinare sempre di più non solo ai loro confini, perché ci sono già arrivati ai loro confini, ma addirittura al centro della loro nazione, perché con l'Ucraina sarebbero arrivati a un tiro di sputo da Mosca e a questo punto questo processo che è durato decenni, non è che si può congelare, che poi riprende in un secondo tempo, loro vogliono chiudere il discorso definitivamente anche perché sono in vantaggio, quindi diciamo che non vedo una soluzione che parta da appunto Zelensky o dall'Occidente diciamo sotto falsa maschera, i russi tratteranno solo con i veri potenti, tratteranno con gli Stati Uniti, con eventualmente l'Inghilterra, non tratteranno con Zelensky, non tratteranno con l'Unione Europea, non trattano con i pupazzi, tratteranno con quelli che gli stanno facendo veramente la guerra e quando si tratta di trattative non sono queste pagliacciate mediatiche fatte per il pubblico occidentale, ma saranno trattative serie fatte dietro a un certo riservo che poi daranno eventualmente i loro frutti oppure no. A proposito, tu prima citavi gli accordi di Minsk nel 2014, Lavrov in un'intervista rilasciata a Newsweek ha rivelato che Mosca non vuole ripetere proprio quell'errore, cioè quando si fidò degli accordi di Minsk e ha dichiarato che gli accordi di Istanbul siglati il 29 marzo 2022 dalle delegazioni russa ucraina potrebbero fungere di base per l'accordo, prevedono il rifiuto di Kiev di entrare nella NATO e contengono garanzie di sicurezza per l'Ucraina e detto questo ha continuato spiegando proprio che insomma il Kremlin adesso però ci va col piedi di piombo perché evidentemente ha anche paura di essere comunque ingannato come è successo già in precedenza. Come commenti queste dichiarazioni, questa intervista di Lavrov? Sono estremamente positive in termini proprio di disponibilità russa. Io penso che i russi in realtà siano ancora meno disponibili di quanto abbia detto Lavrov. Lavrov ha mostrato una straordinaria disponibilità a esprimersi in questo senso dopo che Putin aveva già detto chiaramente che l'offerta che aveva fatto a giugno di quest'anno che era molto meno generosa di quella appunto degli accordi di Istanbul del marzo 2022 e era ormai da considerare superata e che le prossime condizioni sarebbero state ancora meno piacevoli per l'Ucraina e quindi anche per l'Occidente. Quindi questo diciamo questa sorta di passo in avanti di Lavrov è molto positivo. Denota quello che è sempre stata la posizione russa, che sono sempre stati pronti alla trattativa, ma sono sempre stati pronti alla trattativa soprattutto da prima del conflitto, questo dobbiamo ricordarlo, dobbiamo ricordare che fin dal 2007, il famoso discorso di Putin alla conferenza di Monaco, la Russia voleva discutere con l'Occidente un'architettura di sicurezza condivisa per evitare di arrivare a una guerra quando la NATO si fosse spinta oltre delle rinine rosse inaccettabili per la sicurezza della Russia. È sempre stata mandata al mittente questa volontà di trattare, di trattare appunto l'architettura di sicurezza condivisa e ricordiamoci che subito prima dell'inizio dell'operazione militare speciale, ancora a dicembre del 2021, la Russia aveva posto, quelli erano degli ultimatum, dopo anni e anni a chiedere appunto un confronto, hanno chiesto vabbè questa è l'ultima proposta che facciamo, ci mettiamo un tavolo per discutere queste cose in maniera che noi siamo sicuri che non ci vogliate attaccare in futuro, l'Occidente le ha risposto con un diplomatico vaffanculo, adesso l'ho detto in parole semplici e a questo punto è successo quello che è successo, quindi adesso qualsiasi tipo di soluzione dovrà garantire la Russia. C'è questo problema insormontabile che nelle parole di Lavrov però non trapela del fatto che comunque la Russia non si fida più di questo Occidente, non può fidarsi di questo Occidente perché tu non puoi fidarti di mentitori seriali che non hanno rispettato un accordo che dico uno negli ultimi anni, quindi chi è che mai crederebbe una persona che non ti è ingannato una volta e ti inganna tutte le volte? Quello è un problema serio, non è chiaro come verrà risolto, comunque i russi come detto per l'ennesima volta si sono detti disponibili, disponibilissimi a trattare appunto su una base seria, quindi loro mantengono quella posizione. In questa intervista emergeva anche che se dovesse vincere le elezioni, le presidenze americane Trump si chiude, si chiuderebbe il conflitto, ne avevamo parlato spesso anche con te della proposta che era stata avanzata da alcuni ex consiglieri di Trump, pensi che effettivamente sia così? Sì, adesso mi sembra un po' precipitosa, nel senso che un conto sono le parole, un conto sono i fatti, un conto sono i fatti compiuti, perché noi non sappiamo da qui all'insediamento eventualmente di Trump dovesse vincere le elezioni, che cosa potrebbe accadere in termini di operazioni false flag, di provocazioni, di fatti compiuti dopo i quali poi non c'è più via di ritorno. E poi comunque ci sono le pressioni, perché non è che diventare Presidente degli Stati Uniti ti dia il potere che vediamo nei film di Hollywood, non è vero, il Presidente prende delle decisioni che se però poi il Pentagono, il Deep State non è d'accordo a mettere in atto, semplicemente non lo mette in atto. Ricordiamoci che già ai tempi della prima Presidenza Trump aveva dichiarato l'immediato ritiro di tutte le forze americane dalla Siria, sono ancora lì, hanno fatto finita di andarsi, hanno fatto un salto in Siria in vacanza, sono andati a farsi un weekend, scusate in Siria e in Iraq e poi sono ritornati. Quindi non è che essere il comandante in capo veramente ti dia il potere che vedi nei film, il potere è una cosa più complicata. Quindi anche le verità di Trump non è detto che poi abbiano successo. Certo, potrebbero comunque raffreddare la guerra, congelare il conflitto, però ho i miei dubbi sul fatto che poi raggiungano delle soluzioni a lungo termine, a meno che non ci sia un cambio radicale proprio anche a livello di scontro, a livello di Deep State degli Stati Uniti, dove irrealisti abbiano finalmente il sopravvento sui neoconservatori che sono poi i guerrafondai tradizionali e cerchino una soluzione che permetta di limitare i danni per una superpotenza che si sta disintegrando nella loro, ormai fu egemonia sul mondo. Ecco, finché prima lo accettano, prima si riposizionano sulla schiacchiera, meglio è anche per loro. Quindi se i realisti avranno il successo, a questo punto Trump avrà la possibilità di eventualmente trovare una via di pace con la Russia. Ma se questi qui continuano a remare contro, anche Trump non potrà fare molto. Prima citavi Hollywood e i film hollywoodiani, quindi torniamo al nostro attore e al suo tour europeo, Zelensky ha anche dichiarato in questi giorni che Putin non vuole la diplomazia, ha detto che vediamo che la Russia cerca di evitare una diplomazia leale e ha continuato a ribadire che pretendiamo che Kiev pretende una pace giusta. Quale sarebbe questa pace giusta? Tu mi chiedi l'impossibile, perché la pace giusta, secondo Zelensky, è uno simono, perché peraltro lui non è neanche il presidente della Russia, nel senso dal punto di vista legale, il suo mandato è scaduto. È l'Ucraina. Dell'Ucraina, se volevo dire, non è più il presidente dell'Ucraina. Il suo mandato è scaduto, quindi non è chiaro a che titolo parli. Questo è, diciamo, come detto, un vaniloco in generale. Poi sul fatto che la Russia abbia dei problemi. Allora, la diplomazia russa, la diplomazia russa in tutto il mondo ormai è vista come la migliore del mondo, insieme a quella cinese. La diplomazia russa è ormai il punto di riferimento per l'80% del mondo per la mediazione rispetto a problemi internazionali e altro. È vista come un motivo di riferimento perché i russi si danno un grande impegno a essere il più coerenti possibili, il più aderenti alle leggi nazionali possibili, poi la perfezione in questi casi non esiste, proprio per creare, diciamo, quel tipo di sicurezza, di affidamento che poi le nazioni devono avere, perché tu non puoi fare degli accordi. Cioè la diplomazia è quella di trovare degli accordi, che però poi vanno rispettati. Se non li rispetti non è diplomazia, è, diciamo, truffa gravata, gravatissima. E ormai l'Occidente collettivo è un truffatore seriale. Cioè la diplomazia dell'Occidente collettivo è o fate così o vi bombardiamo, detto in, diciamo, in modo, diciamo, con delle perifrasie. Guarda che quella è la diplomazia israeliana, forse ti confondi. Sì, vabbè, lì siamo a un livello ancora ulteriore, lì siamo ancora a un livello ancora ulteriore, ma l'Occidente collettivo non è che sia meglio, è solo semplicemente un po' meno letale, ecco, in questo senso qua, che poi per pienamente partecipe anche, appunto, alle tragedie di Gaza, quindi è tutto in Medio Oriente, quindi di fatto, no, no, proprio tutta la diplomazia dell'Occidente collettivo, che ormai non è più diplomazia, non viene più riconosciuta, non viene creduta, quindi di fatto puoi accusare alla Russia di quello che invece è il tuo problema, parlo di Occidente collettivo, di cui adesso Zelensky è diventato parte, è diventata, diciamo, la pedina spendibile, più spendibile, e dicevo, è un fenomeno di psicologia proiettiva, cioè l'Occidente collettivo, come al solito, proietta i propri malanni, le proprie patologie sugli avversari, psicologia proiettiva al massimo livello. Allora, questo piano per la pace sarà pronto, per la pace giusta, sarà pronto a novembre, al suo interno ci saranno anche tutte le condizioni, appunto, per la fine della guerra, quindi poi aspetteremo di capire che cosa prevederà. Ci sono però delle rivelazioni e anticipazioni che sono state pubblicate da Bloomberg, secondo cui Zelensky sarebbe però a questo giro pronto alla flessibilità per la fine del conflitto. Secondo te che cosa può significare questo essere flessibili, la cessione poi dei territori? Innanzitutto mettersi a 90 gradi, però poi questo rispetto soprattutto appunto agli americani, non certo ai russi. Ma questo allora è sempre stato flessibile, no? Forse? Sì, sì, no. Beh, diciamo, da quando suonava il pianoforte senza mani, grande, virtuoso, insomma, penso che di flessibilità ne abbia mostrato molto, ecco, e anche di fluidità. Dicevo, invece il fatto di cedere territori, non lo so, sinceramente, perché tu mi stai chiedendo una risposta razionale a quello che invece è un pantano, diciamo, di contraddizioni semantiche. Se poi gli vai a chiedere, ma allora la Crimea è russa adesso? E non credo che lui dice, sì, sì, è russa. È chiaro che lui dire, no, no, perché è paradissimo. Quindi troveranno degli equilibrismi per dire, rinviare la definizione di certi problemi in futuro, anche perché c'è un problema serio, nel senso che Zelensky, vabbè, sì che è una pedina di chi sappiamo, però poi, oltre a quello, è anche ostaggio, chiaramente, degli estremisti nazisti, diciamo, di chi ci sono nel suo paese, gli supernazionalisti. Ma quali? Lì che leggono Kant? I kantiani, sì, sono i grandi studiosi di Kant, sì, sì. Ci sono questi studiosi di Kant, non è la mia definizione, la definizione è proprio del mainstream italiano, e diciamo, questi studiosi di Kant, nel momento in cui lui dicesse che l'Ucraina, alla Russia, e che il Donbass non è più ucraina, a questo punto, insomma, gli darebbero delle lezioni di filosofia, ecco, diciamo, di quelle che poi ti lasciano il segno, oppure filosofia post-mortem. Quindi, di fatto, ci sono dei problemi anche interni che Zelensky, appunto, deve fronteggiare. Quindi, sinceramente, non c'è una soluzione razionale, una risposta razionale che ti possa dare, perché non esiste una soluzione di passia razionale che Zelensky possa proporre, perché neanche per conto terzi, neanche per conto… e poi, come detto già all'inizio di questa discussione, diciamo, le condizioni non le dettano gli sconfitti. Questa è una questione di principio, cioè, nel senso, qualsiasi cosa dovesse offrire, la Russia direbbe, ma siamo noi che dobbiamo offrire, dirvi che cos'è che ci va bene a noi, oppure no, perché altrimenti la Russia si prende anche Odessa, perché, attenzione, da Odessa continuano a sparare dei droni acquatici contro la flotta, appunto, di Sevastopol, e questo chiaramente potrebbe continuare anche dopo aver firmato tutti gli accordi che vuoi, e la Russia non vuole, deve trovare una soluzione, la Russia vorrebbe addirittura la demilitarizzazione dell'Europa, o comunque dell'Europa orientale, perché poi se gli arrivano i droni dalle coste bulgare e rumene, per la Russia non cambia niente, non ha risolto niente, quindi, come vedete, il problema è grosso e complesso e la Russia vuole una soluzione, non un rinviare il problema. Anche perché comunque i venti di guerra continuano a spirare con un certo impeto, perché anche il viceministro degli esteri russo, Alexander Grushko, in un'intervista ha dichiarato che la Nato starebbe valutando possibili azioni militari contro la Russia, facendo capire che si starebbe, insomma, effettivamente preparando la guerra. Secondo te è così? Effettivamente la guerra è ogni giorno più vicina, ci sono delle chance per evitarla? È un continuo tentare invece di mostrare i muscoli o sarebbero solo provocazioni? Ma in questo campo l'Occidente è completamente schizofrenico e isterico. Isterico perché di fatto non riesce ad accettare la prospettiva della sconfitta, ormai è diventato un problema esistenziale per l'Occidente collettivo di per sé. Tra l'altro noi abbiamo sempre detto, io ho sempre ripetuto che l'Europa perderà questa guerra, però c'è un'opinione interessante, grande diversa di Emmanuel Todd, il famoso sociologo e antropologo francese, che ha scritto un bellissimo libro, La fine dell'Occidente, questo l'ha scritto tra l'altro già nel 2013, che però adesso io appunto l'ho sentito parlare a Bologna un paio di giorni fa e lui tra l'altro ha dichiarato una cosa interessante, se l'Ucraina perde l'Europa può vincere. Però questo è interessante, l'Europa non l'Unione Europea, per l'Unione Europea non c'è più niente con l'Europa e per inciso se vince l'Ucraina si dissolve anche la NATO, se vince l'Ucraina, scusate, se perde l'Ucraina, forse ho fatto confusione, ho detto se vince l'Ucraina prima. Perché è talmente tutto schizofrenico, come ci stavi spiegando, che poi dopo un po' che ne parli anche tu sei un attimo… come farsi di LSD? Inizia a vederti anche tutto più brillante, con questa camicia tutta brillante, c'è un po' di confusione effettivamente. Allora ritiro le ultime 700 parole, Todd ha detto che se perde l'Ucraina vince l'Europa, nel senso che questo è contrario a quello che ti dicono i pifferai magici, che se vince la Russia, perde l'Europa. No, è esattamente il contrario. In cambio però perde l'Unione Europea, che è un corpo estraneo che di fatto ha metastatizzato dentro l'Europa. Questo è un dato di analisi un dato di analisi che va un po' contro l'Ucraina. Però invece queste istituzioni che si sono metastatizzate nei popoli, l'Unione Europea, la NATO e quelli per loro invece è diventata una guerra esistenziale. In quel caso se vince la Russia loro perdono, ma non è chiaro se possono sopravvivere a questa sconfitta. Visto che ormai hanno puntato tutto sulla sconfitta strategica della Russia. Hanno iniziato questa guerra, che ne raccontino i loro pennivendoli in televisione. Hanno iniziato la guerra e peraltro Todd, sempre Todd, menziona il fatto che gli storici del futuro analizzeranno come l'Europa abbia insistito così tanto nell'iniziare questa aggressione alla Russia. Sì che c'è un aggressore, c'è un aggredito, ma è esattamente il contrario di quello che raccontano i mentitori seriali nella televisione. Il problema in questo caso è che di fronte alla prospettiva di una disfatta che comporterebbe la perdita dei loro lavori, perché i vari rutte, tutta questa gente che fa da pupazzo in queste istituzioni malefiche, poi perdono anche loro, perdono lo stipendio, poi chissà che cos'è che gli succede, perché quando perde le guerre, chi ha perso la guerra una volta faceva anche una brutta fine, se i popoli poi si arrabbiano. Quindi da un punto di vista strutturale per queste organizzazioni, non perdere la guerra contro la Russia è fondamentale, è esistenziale. In questo caso, anche di fronte a sconfitta probabilissima, quasi certa, è possibile che vadano a cercare di giocarsi il tutto per tutto sulla pelle dei popoli, di cui non ne frega niente, europei, per cui puoi anche rischiarti una mezza guerra nucleare o limitata a nucleari tattiche, sperando che questo cambia un attimo la situazione sullo scacchiere. E se poi nel processo muoiono milioni di persone in Europa, cosa gliene frega l'Unione Europea se muoiono gli europei? Cerchiamo di essere chiari, perché l'Unione Europea è anti-europea. Lo so che è difficile da capire per molta gente, ma è esattamente così. Sono dei traditori che tramano alle spalle dei loro popoli in una sede che idealmente dovrebbe fare esattamente l'opposto. E la Nato non ne parliamo, quello è lo strumento che serve poi per manovrare anche militarmente le nazioni soggiogate. Però questi organismi, se perdono la guerra strategica o contro la Russia, non è chiaro come possono proseguire ed esistere come se niente fosse. Allora, giovedì, siamo quasi in chiusura, però ti volevo chiedere ancora questo punto. Giovedì abbiamo fatto una diretta con Gianmarco Landi, abbiamo parlato dell'ultimo libro di Bob Woodward, War, dove i media hanno anticipato tutta una serie di rivelazioni scottanti e forse mere speculazioni non sappiamo, ce ne sono anche alcune che riguardano Vladimir Putin, il suo rapporto con Donald Trump, il fatto che Trump avrebbe continuato a sentirsi telefonicamente almeno sette volte con Putin, gli avrebbe mandato del materiale per la diagnostica del Covid, ma poi soprattutto c'è un passaggio, sia quello che Putin avrebbe pensato di utilizzare concretamente delle armi nucleari. Ora, questi retroscena svelati da Woodward in questo libro, tra l'altro poi insomma a orologeria, perché tra poche settimane ci saranno poi anche le elezioni presidenziali, secondo te a chi giovano? Bella domanda, è difficile da interpretare, almeno anche perché io non so tutte le rivelazioni, non ho letto il libro, quindi faccio fatica a calcolarlo. Certo che il fatto che Putin abbia seriamente pensato all'uso delle armi nucleari non è che ci voglia un Woodward a dirlo, bastava ascoltare Putin, nel senso che l'ha detto lui, non è che te l'ha detto in quei termini, ma l'ha detto in un modo che era inequivocabile e l'ha detto parecchie volte quando a un certo punto la stabilità della Russia fosse messa in pericolo, quindi non è che ci sono delle rivelazioni che appunto erano segreto di Pulcinella. Sul fatto che Putin si tenesse in contatto con Trump continuamente può venire interpretata a due modi e può soprattutto venire militarizzata a due modi, perché può venire militarizzata contro Trump, nel senso che viene di nuovo per l'ennesima volta accusato magari di filoputinismo e tutte quelle accuse surreali che sono di moda recentemente, oppure può essere utilizzata per dire lui risolverà la crisi perché c'è un buon rapporto. Adesso non avendo letto il libro, non avendo visto tutto il contorno, non posso dire quale dei due fini evidentemente si proponga l'operazione. Comunque di sicuro è stata fatta in prospettiva delle elezioni e di sicuro verrà utilizzata in chiave elettorale. Purtroppo adesso non ho dati a sufficienza per una risposta significativa in che direzione sarà la manipolazione. Grazie, grazie Roberto. E tra l'altro guarda che l'ho notato che hai una libreria alle tue spalle, che vuole emulare la mia. No, è anche più bella forse la tua, la tua, per virgolette. Non è mia, non è mia. Però è reale. Mi trovo in Spagna a casa di uno scrittore famoso, amico, che tu conosci. Ah sì, chissà chi è. Lasciamo un po' di mistero per i nostri spettatori, quindi vivo di luce riflessa, almeno questa libreria, appunto, non è frutto della mia, diciamo, della mia arte di raccogliere libri, ma frequento le persone giuste. Vabbè, ma lì ci saranno probabilmente anche libri tuoi e libri scritti insieme a questo scrittore. Vabbè, non dico altro. Ci sono, ci sono, ci sono. Ci sono, chissà dove sono. Grazie Roberto, grazie per essere stato con me e tra l'altro saluta anche i padroni di casa. Io so chi sono e i nostri spettatori, magari parte il totos commesse in chat. Va bene, grazie Enrica. Un saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato e buona investigazione. Ebbè, è giusto. Per tutti gli spettatori, a te buona Spagna. Grazie davvero di essere stati tutti con noi. Vi ricordo che potete andare sul sito di Visione Editore per acquistare l'ultima copia, quella di settembre in realtà, perché quella di ottobre uscirà a breve, tra pochissimi giorni. Eccola qua. Il doppio volto del potere dedicato alla strategia della tensione. Poi tra pochi giorni, tra tre giorni, mercoledì, ci sarà questo annuncio di questa grande sorpresa che è già stato in qualche modo evocato più volte da Francesco Toscano, che è ancora qualche giorno, ma poi tornerà anche su questo canale. Vi ricordo anche che potete andare sul sito di Visione TV, ecco qua la grafica, per continuare a supportare il nostro lavoro di informazione libera e indipendente e quindi continuare a darci una mano. Grazie a tutti per essere stati con noi e buona continuazione. Grazie a tutti.